Signo, non c'è, signo? Sta solo, signo, questa sera, signo? Scusa, se... Allora, adesso noi facciamo il grande spettacolo, adesso tutti di musica, di vettimenti, adesso cominciamo a battere le mani, sette musica, signo, vai tu, picco, musica! andare a pulire, pulire il signor, oi pulire, il signor, pulire, pulire tutta, pulire la testa di lui, pulire la testa di lui, pulire la testa di lui... Ma che succede?�c, tu, chi che fa? Seguevo a fare musica, signo, tuo, stare in a danza, d'inizio... Ah, che ci fai qui? Sì, signo, sì, sì... Qui lavoro io, harm, tu non lavori qui, scusate, signori, lui è il mio collaboratore domestico, adesso ricominciamo... Sì, signor, sì... Ah, ma che ci fai qui? Che fa signor qui signor? Volevo dire che scusa se è venuto di disturbare il lavoro tuo perché c'è finanza di casa che è rotta signor e il portiere ha detto che non può venire di parlare di serranda che è rotta signor. E va bene? Quando si è rotta la serranda? Era sana stamattina la serranda? L'hai rotta signora, l'hai rotta tu? Sì signora, l'hai rotta tu. Ha fatto blu 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 blu, date giù signor e adesso ti tira i fili, non va di sua, sempre chiusa signor. E va bene, va bene, io ti voglio bene, pazienza che si è rotta la serranda, però tu per dirmi una cazzata del genere sei venuto qui e in futuro lo spettacolo a modo tuo. Tu qua non devi venire, hai capito? Non devi venire, adesso vai a casa subito, vai, vai, lascia mi lavorare. Signor volevo dirvi una cosa signor, che siccome tu signor sei persona molto buona, signor ho pagato tutto, ho pagato tutto, ho pagato tutto. Volevo dire che non è bello signor che te fuma tanto perché è pericoloso di tua salute signor, io non vuole tu muore signor, se tu fuma muore signor. Io non fumo Arnel, io non ho mai fumato in vita mia, non fumo io. Tu non fuma signor, perché c'è grosso potacenele, grosso potacenele signor. Quale posso accenere Arnel? Arnel, quale posso accenere? Posso accenere su cammino signor, pieno di genere signor. Arnel, quello non è un potacenele, cosa hai fatto? E ha spilato tutto, tutto pulito signor, pulito tutto, spili i portali, si è sugliato signor. Nonno Pino, quella è l'urna di nonno Pino. Sì signora, sì, sì. L'urna. Sì signor, tuo nonno signor, che fuma il suo nonno, non te fuma signor. No, mio nonno non ha mai fumato, manco lui. Mio nonno è stato cremato e quella, vabbè che te lo dico a fare, è cremato, mio nonno è morto, l'hanno bruciato e quella è la cenere di nonno. Signor, hanno fumato tuo nonno signor. No, che è fumato mio nonno, mio nonno. Senti, hanno e basta, che ne hai fatto di quella cenere, dove sei? Signor, sta dietro di spilapolvere signor, tu hai dietro di spilapolvere, è un grosso sacchetto. E che hai fatto, hai buttato il sacchetto? No signor, sì signor, sì signor. E sono buttato o non ho buttato? Dietro di spilapolvere. Allora va, bravo, bravo. Adesso tu vai a casa, prendi il sacchetto con la cenere e la rimetti nel postacenere, che non è un postacenere, è un'urna, e non ti avvicinare mai più al cammino, hai capito? Mai più. Sì signore, sì, non è possibile signor, signore. Ma perché non è possibile? Ficchi, posso incendere l'uoto signor, caduto l'uoto. Ma come sei rotto il postacenere? Ficchi, frigorifero è sbattuto su, posso incendere l'uoto. Scusa Arnel, Arnel scusami. Che cazzo ci fa il frigorifero in salotto? Sì signore, siccome Arnel volevo io pulire sotto i frigorifero, allora ha tirato su frigorifero, rotto, frigorifero, signore. Certo. E allora su quell'altro telefono di là, signore, allora Arnel è andato, che è frigorifero di là. E quando si è girato, frigorifero è sbattuto su, può incendere, è caduto, ha fatto tutta nuvola, signore, è caduto. Tutta pulita adesso, signore. Nonno Pino, sì signore, basta. Nonno Pino, signore, nonno Pino, fermo, non ti sbattere, fermo, nonno Pino, fermo. Tutta nuvola di nonno Pino, signore. Basta, Arnel, guardami, tu adesso vai a casa, prendi la cenere di nonno Pino, non ti sbattere, non ti sbattere, e la rimetti, compri la colla, aggiusti l'urna, bene bene, io torno a casa, devo trovare tutto pulito e lindo, lindo, pulito. Adesso, nonno Pino, nonno Pino, vai, vai subito a casa, adesso, immediatamente, quando vai a casa? Va a casa, venerdì, ci vediamo, adesso, signore. No, non ti sbattere, non so, adesso devi andare a casa. Sì, signore. Tu passi una brutta giornata, Arnel, adesso, tutto a posto, quando vai a casa? L'unidì, signore, anderci, signore. No, non ti sbattere, Arnel. Sì, signore. Ma so' ancora. Anderci, signore. Arrivederci, signore. Se otto ore, vi sembran poche, provate voi a lavorare. Se otto ore, vi sembran poche, provate voi a lavorare. Ah, 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 ah